Due giorni di voto per rinnovare il Consiglio regionale della Lombardia e per la nomina del nuovo presidente. I seggi saranno aperti domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura. Turno unico, senza ballottaggio, vince chi ottiene più voti. Una sola alla scheda di colore verde che sarà consegnata ai cittadini. Quattro, le modalità di voto. È possibile votare per il solo candidato presidente, in questo caso il voto non si estende alla lista o alle liste collegate. Viceversa, se si vota per la sola lista, la preferenza si estende anche al candidato presidente collegato. Si può poi tracciare un segno sia sulla lista che sul candidato presidente. È ammesso infine il voto disgiunto, cioè si può votare una lista e insieme un candidato presidente non collegato. Per i consiglieri regionali è possibile esprimere una o due preferenze scrivendo il nome nell'apposito spazio. Se si decide di scriverne due, devono riguardare due candidati di sesso diverso. Bisogna quindi segnare il nome di un uomo e di una donna della stessa lista, pena l'annullamento della seconda scelta. Per poter votare al seggio di riferimento servirà la tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. Per agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, a Como ci si potrà recare all'ufficio dedicato di Palazzo Cernezzi, che rimarrà aperto sia domani che lunedì nello stesso orario dei seggi. La corsa alla presidenza è tra quattro candidati e sono, nell'ordine in cui compaiono sulla scheda elettorale, Attilio Fontana per il centro-destra, Pierfrancesco Maiorino per il centro-sinistra e il Movimento 5 Stelle, Mara Ghidorzi per Unione Popolare e Letizia Moratti, sostenuta dal Terzo Polo. In base agli ultimi dati pubblicati dalla Prefettura di Como, gli elettori lariani sono quasi 517.000, 516.996 per la precisione. Le donne sono poco più di 262.000, oltre 250.000 gli uomini. Sono previste 551 sezioni nei 148 comuni della provincia. Nel capoluogo il dato totale è di 72.192 aventi diritto in 74 sezioni.